dopo la sua ultima relazione con Sara Vise che non si è mai capito se si è conclusa oppure se è ancora in atto Sapo Bulli sembrerebbe essersi lasciato ve l'avevo già pronunciato con un altro video in cui si vedeva palestemente che i costi tra le due non andassero bene e oggi abbiamo le prove definitive sulla nuova finanzata di Sapo ovvero Francesca Preani modella, residente a Milano e ex ragazza di niente di meno che Gallagher non penso ci sia molto da aggiungere ora che vedete le storie perché si baciano esplicitamente comunque i due sono insieme già da un po' di tempo quindi facciamo gli auguri a Sara e Francesca vi lascio un video alle storie fatemi sapere con un commento qui sopra se ne pensate noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti